Sono appena tornato da Panama, dal Darien, il Darien Gap, ossia il passo tra Panama e la Colombia. In quella giungla stanno morendo molti migranti. Stanno accadendo molte cose che non vengono raccontate al pubblico. Il mio obiettivo principale era scoprire chi gestisce questa cosa e perché. Faremo uno speciale su questo. Ma nel frattempo, vi posso anticipare che, come pubblicato in un articolo di Epoch Times basato su una delle interviste che abbiamo fatto, sono le Nazioni Unite che stanno organizzando la crisi del confine. Dietro ci sono le Nazioni Unite. In ogni campo in cui siamo stati, c'erano l'Unicef e l'ONU. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni era molto presente, come anche diverse ONG, tra cui la più grande è IAS. Non è che la gente decide di fare le valigie e andare in America così. Si tratta di una macchina ben oliata e ben organizzata che incanala immigrati clandestini e regolari negli Stati Uniti. È un'operazione condotta dalle Nazioni Unite e pagata in gran parte con i soldi pubblici americani. Epoch Times ha già pubblicato il suo speciale. Secondo l'ex capo della Polizia di frontiera di Panama, la strategia migratoria delle Nazioni Unite è alla base del caos al confine meridionale degli Stati Uniti, e i partner dell'ONU, le ONG, peggiorano le cose invece di migliorarle. Oriel Ortega, ora consulente per la sicurezza e la difesa del presidente panamense Laurentino Cortiso, ha dichiarato durante un'intervista del 22 febbraio, e c'ero anch'io, di aver visto un aumento della migrazione nel 2016. In quell'anno, diverse ONG si sono trasferite a Panama. Il cambio di passo del Patto delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, ordinata e regolare, è del 2016. E tutti quelli con cui ho parlato, e che sanno cosa sta succedendo, dicono che è questo patto che ha dato il via al tutto. Cioè il Patto Mondiale delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, ordinata e regolare, ha messo in moto la macchina. E le ONG che si sono trasferite a Panama per preparare il terreno, a quanto pare si stavano preparando da tempo per questa operazione. L'ONU, a gestire il tutto, e le ONG a svolgere molte delle operazioni sul campo, con il coinvolgimento di molti governi, compreso il nostro. Poi, due anni dopo, 152 nazioni, tra cui Panama, hanno votato a favore di questo patto. Inizialmente, gli Stati Uniti avevano votato contro. Perché c'era ancora Trump. E sotto la guida delle Nazioni Unite, il processo migratorio è tutt'altro che ordinato, come spiega Ortega. Più avanti, l'articolo dice che il libro Armi di migrazione di massa, spostamenti forzati, coercizione e politica estera, scritto da Kelly Greenhill, suggerisce che i paesi più deboli usino la migrazione per destabilizzare gli avversari più potenti. La stessa cosa me l'hanno detta a Panama, ovvero che il Venezuela sta usando l'immigrazione come arma per destabilizzare la regione latinoamericana. E una delle ragioni principali è che vuole una guerra. Vuole invadere la Guyana. E allo stesso tempo sta cercando di destabilizzare anche altri paesi più vicini agli Stati Uniti. Una cosa importante per capire l'America Latina è che la Russia, la Cina e l'Iran vi esercitano un'enorme influenza. In particolare in Brasile e Venezuela. Più che altro in Venezuela, Russia e Cina possiedono molte infrastrutture, costruite da loro, ed è loro interesse evitare che il Venezuela collassi. Vogliono mantenerlo in piedi e vogliono, ovviamente, controllare i profitti che ne derivano, soprattutto quelli delle risorse naturali, nell'ambito della nuova via della seta. Ma anche l'Iran ha molta influenza nella regione. E, naturalmente, dato che questi paesi, Russia, Cina e Iran, si stanno tutti preparando per far scoppiare un conflitto mondiale che inizi dall'America Latina. Molte volte nella storia, anche recente, si è usata la migrazione come arma. Joseph Humer, direttore esecutivo del Center for a Secure Free Society ed esperto di guerra non convenzionale, crede che in questo momento al confine meridionale degli Stati Uniti, stia succedendo questo. Non è complottismo, dice. L'invasione del confine meridionale degli Stati Uniti è una migrazione strategica pianificata. E Ortega dice lo stesso. Le ONG hanno amplificato i problemi della migrazione di massa. Non sono la soluzione. Sono parte del problema, ha detto Ortega, che ha aggiunto, non sono i migranti in sé a costituire una minaccia nazionale. È il crimine organizzato e queste organizzazioni internazionali. È al campo di La Has Blancas a Panama. Praticamente noi abbiamo visitato tutti i principali campi di migranti e La Has Blancas è uno dei più grandi. Qui i migranti hanno accesso a un gran numero di mappe, fornite da certe ONG, che mostrano in dettaglio le rotte migratorie verso gli Stati Uniti. Una di queste mappe, che ho visto personalmente, è quella di HIAS, che aveva una presenza stranamente massiccia in questi campi. Io pensavo fosse una normale ONG, ma sembra essere più grande del normale. HIAS per impatto è seconda solo alle Nazioni Unite, da quanto io ho visto andando nei principali campi di Panama. E io li ho visitati tutti nel Darien. HIAS sta per Hebrew Immigrant Aid Society. Di recente ha ricevuto 11 milioni di dollari dagli Stati Uniti e due sovvenzioni per i migranti latinoamericani. E indovinate chi era nel suo consiglio di amministrazione. Il ministro degli interni degli Stati Uniti, Alejandro Mayorkas, era nel consiglio di amministrazione di HIAS. E la mappa di HIAS che ho visto io, mostra il percorso migratorio dalla Colombia alla Costa Rica attraverso Panama, con le fermate dettagliate degli autobus, le temperature, le altitudini, e le posizioni dei chioschi della migrazione. E i migranti ci hanno detto che il personale delle ONG, molte delle quali sono finanziate con i soldi pubblici statunitensi, visitano i campi solo per alcune ore al giorno. Io ho bussato a molti dei loro uffici, e non c'era nessuno. Uno di loro, secondo Ortega, ha detto, non so dove vadano i fondi, e se questi sono soldi pubblici americani, questo ci interessa. Ortega ha detto questo, parlando delle ONG e delle lamentele dei migranti, visto che i soldi in teoria dovrebbero essere spesi per aiutare i migranti. Più avanti, dice che delle organizzazioni internazionali hanno persino denunciato Panama per violazione dei diritti umani, perché ha trattenuto 2500 migranti provenienti da Haiti. Ortega ha detto che i migranti sono stati trattenuti solo per motivi di sicurezza. Ma non ha approfondito. IAS e le Nazioni Unite stanno portando molte persone alla morte. Incoraggiano le persone a percorrere alcuni dei percorsi più pericolosi al mondo, tra cui il Darien. ogni persona con cui ho parlato, e ho incontrato molti migranti, mi ha detto di essere stata derubata o di esserci andata vicino. Tutti hanno detto di aver visto cadaveri dappertutto, testualmente. Tutti avevano vissuto un'esperienza orribile. Noi ci siamo andati durante la stagione secca. Ci sono El Niño e El Niña. La stagione umida e quella secca, che si alternano ciclicamente all'incirca ogni dieci anni. Ora c'è la stagione secca. E queste sono variazioni climatiche ben note e ben documentate. In questo momento si trovano nella stagione secca. Quindi il fiume è più basso ed è più difficile portare le barche degli indiani Embera. Ne parlerò meglio nelle prossime puntate. Però è anche un po' meno pericoloso attraversare i torrenti. E una delle prime cause di morte è l'annegamento durante l'attraversamento di questi corsi d'acqua. E poi i monsoni, gli smottamenti, eccetera, fanno molte vittime. Poi l'acqua è incredibilmente inquinata. Al punto che molti ci hanno detto che i bambini che bevono l'acqua nei campi di migranti muoiono. Cose davvero atroci. Alcuni migranti ci hanno raccontato che i bambini morivano per emorragie orribili. E pare sia colpa dell'acqua. E uno dei motivi è che il fiume è talmente pieno di cadaveri da essere contaminato. Su questo, uno si chiede cosa facciano le Nazioni Unite e le ONG con tutti i soldi che prendono da noi. Si parla di quasi un miliardo 300 milioni di dollari di soldi pubblici americani dati alle Nazioni Unite e ad altre agenzie che assistono i migranti. E solo nel 2023, solo l'anno scorso, un miliardo 300 milioni di dollari delle nostre tasse sono finiti all'ONU e alle ONG per facilitare l'invasione degli Stati Uniti. Questo secondo un database ufficiale delle spese governative. Andiamo più avanti nell'articolo. L'OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, in pratica l'ufficio migrazione dell'ONU, finanzia l'espansione dei campi, compresi quelli che abbiamo visto noi vicino al Darien, uno a Las Blancas, un'altra nuova struttura vicino a Camp Baggio Cichito, secondo Ortega. Ma l'abbiamo visto anche noi. Abbiamo sorvolato con i droni molte di queste strutture. Cioè, stanno espandendo le loro operazioni. Vogliono ingigantire il fenomeno migratorio, altro che limitarlo. E lo vogliono anche istituzionalizzare. La punta meridionale di Panama è proprio al confine con il Darien, l'unico punto in cui si interrompe l'autostrada panamericana, che va dall'Alaska fino alla punta più meridionale dell'America Latina, il Cile. Siamo stati in molti campi di migranti nel Darien. Anzi, credo che li abbiamo visitati tutti. E abbiamo visto cose scioccanti. Molte di queste zone sono indiane. La principale tribù della zona è quella degli Embera. E non solo i loro villaggi sono invasi dagli immigrati. Sono anche stati espropriati dalle Nazioni Unite. È scioccante. L'ONU in questa situazione c'è dentro fino al collo. E non è un segreto. Lo sanno tutti. Non è stato facile entrare in questi campi. Non fanno entrare tutti. Ma noi eravamo con altri reporter e guida e ci hanno permesso di entrare. Ed è stato scioccante.